Tornare a Perugia è una grande soddisfazione, poi prendere il palo c'è un dispiacere, però va bene così. Sono destro, sei mesi ho fatto all'Atalanta, che il mister Gasperini comunque mi ha provato un po' più esterno rispetto alla mia posizione che magari può essere quella di punta. Quindi ho imparato anche a muovermi magari un po' più da esterno, però cerco di adattarmi a tutti i ruoli dell'attacco e sono disponibile per giocare ovunque. Grazie